La petizione per la messa in sicurezza della suggestiva spiaggia del canale di Mezzanotte non è servita a far bonificare l'aria e quindi a far revocare l'ordine di divieto di balniazione e navigazione. Anche i turisti del 2013 dovranno rinunciare alla sosta sul prezioso fazzoletto di costa del Golfo di Policastro. L'ordinanza della Capitaneria di Porto di Palinuro del 2011 non può essere annullata perché il costone roccioso che sovrasta la spiaggia del canale di Mezzanotte è soggetto a fenomeni franosi. Questa è la ragione per la quale due anni fa la Guardia Costiera proibì fino a 30 metri dal costone sosta, navigazione, ancoraggio e ogni altra attività possibile in superficie subacquea. Una intraddizione ritenuta dannosa per l'economia turistica locale dai barcaioli della zona, uno dei quali lo scorso anno si fece promotore di una raccolta di firme che chiedeva la messa in sicurezza della spiaggia e quindi la rimozione dei divieti. Una petizione è caduta nel vuoto perché le autorità competenti non hanno provveduto a bonificare quel pezzo di arenile incastonato in un'incantevole scogliera da sempre meta preferita dei turisti. Si tratta di una spiaggia accessibile solo via mare per cui i barcaioli non potranno proporla per le loro gite lungo la costa del Golfo di Policastro e i riportisti non potranno usufruirne per una breve sosta. Il divieto, ricorda con forza il comandante Iazzetta dell'ufficio marittimo di Sapri, è in vigore e i trasgressori saranno puniti con multe salatissime. Si parte dai 1000 euro per arrivare ai 3000 euro.